Eccoci qua signori, buongiorno, ben arrivati, siamo show cooking di Olio Capitale. Olio Capitale che raggruppa tutte le eccellenze degli extravergini d'Italia e anche dall'estero e oggi nel nostro show cooking quotidiano abbiamo una presenza della Puglia. La Puglia che è entrata in grande, è entrata con l'orecchietta, è entrata con l'extravergine in cottura ed è entrata con un altro extravergine in finitura del piatto. L'orecchietta l'abbiamo fatta, dedicata oggi in questa giornata di domenica, come si faceva alle nozze con i fichi secchi. Quindi orecchietta, un po' di gorgonzola, dei fichi secchi sopra e poi l'abbinata con il pesce. Il pesce dell'acquacultura, quindi il branzino, la ricetta di Davide Derin ed è un piatto che... buon appetito! Il bilancio delle tre giornate è molto positivo, nel senso che tutti i show cooking che sono stati organizzati sono stati pieni e quindi addirittura abbiamo dovuto inserire ulteriori postazioni per le degustazioni e i nostri assaggi che abbiamo fatto servito durante i vari servizi, le varie conferenze stampa anche lì abbiamo fatto proprio il full, come si dice, sold out adesso. Grazie a tutti!